La parola di oggi è esiziale, l'aggettivo indica qualcosa che reca o può recare grave danno, anzi un danno gravissimo, irreparabile, rovinoso, disastroso, che pregiudie irrimediabilmente la salute, quindi fatale, mortale. Lo sentiamo dire spesso in frasi come fu un errore esiziale oppure attenzione perché nelle condizioni del vostro parente un rialzo di pressione può essere esiziale. O ancora, il clima di quel paese tropicale può essere esiziale per gli europei. O infine, è stato approvato un provvedimento esiziale per le nostre industrie e così via. Si dice quindi esiziale una cosa o una persona che reglia un danno grave o gravissimo, anche estremo o irreparabile. Un atto, un atteggiamento, un comportamento esiziale sarà rovinoso, distruttivo, catastrofico. Un dono, un evento, un segnale esiziale sarà nefasto, nefausto, funesto. Una malattia esiziale sarà letale, mortale. Deriva dal dino exizialis, a sua volta derivato da exizium, termine che in italiano equivale al desueto esizio, usato anticamente per indicare morte, rovina, sterminio, distruzione. Il nome exizium è a sua volta originato da exire, uscile, ed è dunque strettamente imparentato col quasi identico exitus, che vuol dire uscita o esito. Nell'antica lingua di Roma, exizium poteva essere sinonimo di sbocco, risultato, conseguenza. Era quindi un termine neutro che poteva rappresentare un fatto sia positivo che negativo. Pian piano il termine fu usato solo per l'esito negativo, per eccellenza, cioè l'uscita dalla vita, la morte. È un po' la stessa sorte che è toccata alla parola latina fortuna, che significa la sorte, cioè anch'essa posta a rappresentare indifferentemente un destino positivo e negativo, e che invece ora rappresenta solo il significato positivo.